Connettiti con rispetto, è questo lo slogan del Safe for Internet Day, giornata istituita dalla Commissione Europea per la promozione di un utilizzo sicuro dei nuovi media tra i più giovani. Diritti online, responsabilità è il tema principale della decima giornata europea dedicata alla sicurezza in rete dei ragazzi. Secondo i dati diffusi dal Viminale, nel 2012 sono state 78 gli arresti per pedofilia online, 335 le denunce presentate, 412 le perquisizioni effettuate, 461 i siti pedopornografici oscurati. Cifre importanti che fotografano il fenomeno presentato nell'ambito del Safe for Internet Day, al convegno dal titolo per un web sicuro, progetto sociale itinerante e interattivo per un corretto utilizzo del web, promosso dal MOIJ, Movimento Italiano Genitore, con Trend, Micro e Cisco, in partnership con Google Italy e in collaborazione con la Polizia Postale. Solo tre genitori su dieci, infatti, sono attenti all'uso che i loro figli fanno di internet. Il 57,6% dei ragazzi, infatti, utilizza internet da solo. Uno su tre naviga dalla propria stanza e uno su quattro soffre dell'impossibilità di navigare anche solo per un giorno. Un altro pericolo è rappresentato dal bullismo virtuale. Il cyberbullismo è per il 72% dei ragazzi la principale minaccia che alleggia tra i banchi di scuola o nel PC di casa. Per combattere il cyberbullismo serve una cybereducation fino ai primi anni della scuola, ha dichiarato il ministro Profumo.